Per l'anniversario dei cent'anni dell'USU nel 2020, mi auguro che l'USU riesca a raggiungere più visibilità in generale nella società, ma in particolare presso gli studenti e le studentesse, perché è importante che questi vedano il grande beneficio che porta quest'unione e si sentano rappresentati da questa organizzazione. Io penso che è importante che l'USU continua a assicurarsi del fatto che ci siano delle condizioni di studio buone per gli studenti e le studentesse in Svizzera, affinché tutti possano studiare uno e affinché lo studio sia un piacere e inoltre trovo che è importantissimo che la Svizzera faccia parte del programma di Erasmus, quindi dobbiamo combattere affinché gli studenti abbiano più possibilità di scambio a livello internazionale e a questo punto vi consiglierei di guardare il nostro sito web erasmus-ch.ch. Durante le mie attività all'interno dell'uso ho imparato che è importantissimo il contatto e l'unione fra organizzazioni che seguono obiettivi simili, perché noi come organizzazioni studentesche spesso siamo confrontati con gli stessi problemi, però abbiamo modi diversi di affrontare questi problemi ed è interessante confrontare questi diversi approcci che abbiamo e trovare delle soluzioni migliori per tutti. Inoltre ho imparato che è importante essere ambiziosi ma anche realisti al contempo, perché si può solo fare piccoli passi alla volta, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare per questo, perché globalmente tutti insieme faremo grandi cose.